I diabetici impediranno all'infezione di diffondersi oltre. Ti risparmio la ramanzina che ti farà domani il dentista, ma penso che tu debba praticare un'igiene orale più accurata. State dicendo che mi succede perché non uso il filo interdentale? In parte sì, comunque i diabetici sono soggetti a questo tipo di infezioni. Il più delle volte neanche si spoglia prima di andare a letto. Immagino quante volte tu non ti sia lavato i denti da quando... Scusami, non volevo farti la predica, tesoro. Forse hai ragione. Senti, non hai mangiato niente tutto il giorno. Perché non vai a prenderti qualcosa? Io sto bene. Ok, ci vediamo tra un'oretta, d'accordo? Non se ti vedo prima io. Mi chiedevo se poteste farmi un favore. Mi servono l'adattilo braille e il laptop e non posso chiederlo a Melissa. Perché no? Perché vorrei che metteste questo in un posto sicuro. È meraviglioso. Tutti dicono che i diamanti sono bellissimi, ma per me sono solo freddi e hanno dei bordi taglienti. Convincerla a prendersi una pausa è stata la cosa giusta. La pausa è stata una sua idea. Melissa è l'unica ragazza con cui sia stato. Voleva che fossi sicuro prima di... di fare il grande passo. Cavolo. Già... La pausa è stata la mia... di fare il grande passo. La pausa è stata la mia... di fare il grande passo. La pausa è stata la mia... di fare il grande di... Grazie a tutti